Un matrimonio d'altri tempi, quello celebrato nella chiesa greca di Mira a Lecce, dove gli sposi, entrambi appartenenti alla comunità italo-albanese della Calabria, si sono sposati tenendo fede al rito bizantino-greco, con la sposa a presentarsi all'altare con indosso l'antico sontuoso costume femminile di gala albanese, tempestato di oro, ricami e tessuti preziosi. Gli sposi sono Emanuela Capparelli, presidente della Fondazione di Cultura Albanese della Regione Calabria, e Nicola Bavasso, direttore della testata giornalistica Arberia TV Occitana, corrispondente del quotidiano Gazzetta del Sud. Uno dei costumi più sontuosi del panorama dell'arberia, quindi abbiamo deciso di sposarci così, in questo modo, e siamo felici che possa avere un seguito anche per le nuove generazioni. Un'occasione per tanti turisti di assistere ad un rito suggestivo unico nel suo genere, in una tra le prime chiese fondate in Italia dalla comunità albanese. La nostra celebrazione prevede il fidanzamento e poi il matrimonio. In chiesa abbiamo fatto per gli ospiti dei libretti, proprio per spiegare un pochino la nostra liturgia, che è veramente molto bella, molto suggestiva. Lecce ha una chiesa di rito greco-ortodosso, però non ha, come dire, un popolo di fedeli greco-ortodossi, è un modo per far conoscere la nostra tradizione.